E' una versione che è tratta dal Deofficis. Il Deofficis si può considerare il testamento spirituale di Cicerone ed è un testo che è indirizzato al figlio dove vengono considerate le virtù che garantiscono e che danno all'uomo quell'umanitas che secondo Cicerone è legata alla tradizione degli avi, ai maiores, a coloro che hanno fondato la romanità. Evidentemente Catone, il censore, è un punto di riferimento. Viene trattato l'utile, legato però al senso del morale, e ricordiamoci quali sono queste virtù che definiscono l'umanità romana, dalla pietas alla fides alla magnitudo animi alla gravitas all'equitas. Come statuisem scrivere a te aliquidoc tempore muta postac, aveo ordiri maxime volui, abbiamo una prima subordinata che inizia col cum, cum statuisem scrivere a te aliquidoc tempore muta postac. Qui, io adesso non l'ho messo, ma ci dovrebbe essere una virgola, perché normalmente se la punteggiatura è in ordine, la subordinata termina o col verbo o con la virgola o con tutte e due. Poi c'è il quad, no? Che inizia un'altra subordinata, e quindi la principale è abbeo ordiri maxime volui. Ho voluto ordiri partire soprattutto abbeo. Abbeo, notate sempre, dimostrativo, più orretivo, da quello che... Cominciamo da capo. Cum statuiset, avendo stabilito, avendo deciso, di scrivere a te qualche cosa in questo tempo e molte altre cose in seguito ho voluto ordiri, partire soprattutto abbeo, da quello che i i era assai adatto per la tua età e sottinteso sei assai adatto alla mia autorità. Quindi vedete che questa è una proposizione relativa. D'am Cum multa sinti in filosofia et gravi et utilia accurate copioseque a philosophis disputata latissime patere videntur ea quei dei uffici stradita ab illis et precepta sunt. C'è di nuovo un Cum col sint. però questo questo sint si collega a disputata ma potrebbe anche non essere. Vediamo un po'. Proviamo con tutte e due le forme. Lasciamo perdere per ora tutto il resto. essendoci molte cose nella filosofia e importanti e utili trattate accuratamente abbondantemente dai filosofi. Ma io preferirei legarlo con disputate e dire essendo state disputate molte cose in filosofia gravi e utili no no non funziona bisogna anche tentare cioè leggendo questa roba qui questa riga è abbastanza chiaro quello che dice con multa sint in filosofia gravi e utili accurati copiose vuol dire chiaramente che tante cose tanti argomenti sono stati trattati in filosofia e sono stati trattati e disputati attentamente dai filosofi però se poi dobbiamo passare ad una traduzione precisa io ho provato nel secondo momento ma non si può sint e non riesco a attaccarlo a disputata quindi ripeto essendoci molte cose molti argomenti poi io dico molte cose poi cerco la parola più adatta essendoci molti argomenti nella filosofia e importanti e utili disputata trattati accuratamente abbondantemente dai filosofi dunque videntur videntur sembrano riguardare molto appropriatamente quelle cose che quegli argomenti che tradita abilis et precepta sunt qui abbiamo un sunt sottinteso quegli argomenti che sono stati tramandati sui doveri de officis da quelli cioè dai filosofi e precepta assunte sono stati insegnati poi questo patere potrebbe anche avere un altro significato sembrano che sembrano che si estendano siano particolarmente vasti quegli argomenti che sono stati tramandati sui doveri da quelli e sono stati insegnati qui però voi capite sono piccolezze che devono essere valutate anche sul gusto di ognuno guardate che questa è un pezzo molto difficile secondo me vediamo alcune cose un po' per volta perché se voi vedete che alla prima parte nulla non c'è un verbo quindi indubbiamente alla prima parte visto che non ci sono particelle subordinanti appartiene alla proposizione principale però io devo ancora trovarla questa proposizione principale qui inizia una condizionale sì si tecum agas quid attenzione che qui oltretutto c'è un trabocchetto si aliquid aliquid per dei ali si agas aliquid tecum neque si contras aliquid cum altero e se voi notate c'è un presente congiuntivo col presente congiuntivo nelle nelle ipotetiche indipendenti agas a valore di imperfetto se tu trattassi aliquid qualcosa con te stesso né se contraessi qualcosa con un altro quindi sia nei rapporti con te stesso sia nei rapporti con un altro e questa è la condizionale può testo ufficio vaccare eccolo qui la prima proposizione che noi troviamo e che potrebbe essere la principale allora cominciamo da capo infatti nessuna parte questa parte più che nominativa non può essere quindi un soggetto nessuna parte della vita adesso do la traduzione letterale nessuna parte della vita né nelle questioni pubbliche né in quelle private né in quelle del foro né in quelle domestiche vedete che c'è rebus né va avanti così se tu dovessi ho aggiunto io dovessi come fraseologico dovessi fare i conti con te stesso dovessi fare qualche cosa con te stesso né se dovessi fare qualcosa con un altro ecco può venir meno può mancare del dovere quindi in tutte le situazioni della vita noi dobbiamo fare i conti con i doveri propri del nostro stato e qui di nuovo non è semplice qui ci dovrebbe essere una virgola no andrebbe meglio in io e oque et colendo sita vite est onestas omnis et negreggendo sita est non mi stupi tutto vedete poiché ci sono delle et che mi collegano con un'altra coordinata la principale che è questa sita vite est onestas omnis è presente tutta l'onestà della vita quindi e in eo colendo nel coltivare quello nel seguire quello cioè il dovere è presente è presente tutta l'onestà della vita e nel disprezzarlo il dovere è presente tutta la tutta la la vergogna tutta la la disonestà la disonestà vedete che qui oltretutto c'è sottinteso in eo e qui sita est omnis perché io mi trovo con una frase non so come spiegare non è facile in eo in eocue et colendo sita vita est onest at omnis et negleggendo turpitudo innanzitutto dobbiamo metterci in testa che qui abbiamo un gerundivo in colendo eo nel coltivare questo nel seguire questo cioè il dovere qui c'è di nuovo un gerundivo et in eo negleggendo e nel disprezzare questo cioè nel disprezzare il dovere a cui noi siamo sottomessi quindi vediamo se riusciamo a fare la nuova mente da capo non so se è chiaro nessuna nessuno diamo una traduzione un po' più libera nessun momento infatti della vita né nelle questioni pubbliche né in quelle private né in quelle forensi né in quelle domestiche né se tu dovessi avere a che fare qualcosa con te stesso né se dovessi avere a che fare con un altro può mancare del senso del dovere e nel coltivare questo cioè il senso del dovere è presente tutta l'onestà della vita e nel disprezzare questo è presente tutta la disonestà però è difficile io la trovo molto difficile per un ragazzo che deve tradurre particolarmente per queste cose e adesso qui cosa è successo acqua è che acquida in questi è un comune in sé sommio filosoforum e in vero questa questione questo problema è comune a tutti i filosofi questa questione di tutti i filosofi è comune vabbè vediamo qual è la questione quis est enim qui nulli soffici precetti stradendis filosofum se auda dicere guardate che io ho trovato questa perché naturalmente tutte le versioni in latino non me le vado a scrivere io a macchina le ho trovate online però guardate che mancano mancavano tutte queste versioni delle virgole e diventa difficile tradurre senza virgola e senza punteggiatura quis est enim quis col punto interrogativo è una principale interrogativa chi è infatti qui è sottinteso is colui il quale is qui colui che audeat se dicere filosofum potrebbe osare di chiamarsi filosof audeat è un congiuntivo dubitativo andate a vedere tutti i congiuntivi vari tipi di congiuntivi nel mio manuale nullis officis precetti stradendis attenzione che qui ci troviamo di nuovo con il gerundivo e il suo complemento oggetto che si trova nello stesso genere numero caso nel annullare ogni nullis ogni insegnamento di dovere letteralmente eh nell'annullare qui dice il contrario nel non tramandare nel non consigliare nessun insegnamento di dovere ora noi sappiamo che quando è inablativo è l'unico caso in cui gerundio gerundivo lativo si possono tradurre col gerundio italiano quindi questo ci sono le cose che dice chi è infatti che non consegnando evidentemente ai posteri alcun insegnamento sul dovere potrebbe osare chiamarsi filosofo o semplicemente oserebbe chiamarsi filosofo Cerone parla parlava duemila anni fa però sembrano parole rivolte agli uomini di oggi probabilmente le cose si ripetono nei secoli non nulla è disciplina guardate che non nulla è da considerare assieme vuol dire alcune que propositus bonorum in valorum finibus officium omne perverto ma ci sono alcune discipline che pervertono ogni dovere vedete che qui l'ho messo come principale perché non c'è nessuna particella subordinante poi c'è que che si collega con l'unico verbo che c'è pervertono ogni dovere propositis bonorum et filibus malorum con qui le definizioni dei beni e le definizioni dei mali nomi qui sumum bonum sic instituit ut nì l'abeat cum virtute coniuntum et nam fa parte della principale qui c'è una relativa sic ut consecutiva ut nìl aver con virtute coniuntum et poi c'è un'altra coordinata consecutiva et tìd sui scomit non state metitum quindi questo ut regge due consecutive poi c'è ik da solo poi inizia una condizionale ccb consensia e non interno di un attore bonitato evicato c'è una condizionale che ha un'altra condizionale in coordinazione e poi c'è finalmente la principale nam ik neque amiciziam collere possi nex justitiam ne liberalitate ma attenzione questo ik è un dimostrativo io vi ho detto tante volte che il dimostrativo deve essere collegato al relativo ik qui infatti quello che definisce il sommo bene così che nulla abbia congiunto con la virtù e questo è ricercato secondo i suoi comodi limitazione potrebbe anche essere una causa efficiente essere ricercato dai suoi comodi non dalla sua onestà io preferirei però un complemento di limitazione se lui stesso consentisse a sé cioè vorrebbe dire se lui stesso è coerente se lui è coerente con se stesso e non fosse vinto a volte dalla bontà della sua natura né potrebbe coltivare l'amicizia né la giustizia né la liberalità anche questo non è facile perché innanzitutto bisogna vedere questo ik che si collega qui poi vedere la consecutiva sicut poi c'è l'ipotetica dove abbiamo il congiuntivo presente e il congiuntivo presente e il congiuntivo presente che si traduce con l'imperfetto congiuntivo nella condizionale nella reggente della condizionale si traduce col condizionale proviamo di nuovo infatti quello che così definisce il bene sommo da non essere unito con la virtù e quello stesso essere definito secondo i suoi comodi non secondo l'onestà se vuole essere corrente con se stesso e non è vinto a volte dalla bontà della sua natura non potrebbe né coltivare l'amicizia né la giustizia né la viralità cosa vuol dire questo vuol dire che se uno parte col principio che il bene sommo è definito dai propri interessi a meno che qualche volta sia vinto dalla bontà che poi è intrinseca nel cuore dell'uomo a meno che ripeto sia vinto non dal principio che ha posto ma è vinto dalla bontà che è presente nella natura di un essere umano non potrebbe assolutamente coltivare né amicizia né giustizia né liberalità fortis vero dolore sumum malum judicans autemperans guardate che ad esempio queste due righe le ho trovate ma senza una virgola non so se riuscite a tradurre senza una virgola fortis vero dolore sumum malum judicans autemperans volutatens volutatens monustatues esse certe nullo modo potest con le virgole la cosa può ancora funzionare fortis vero fa parte della principale non c'è dubbio autemperans esse certo nullo modo potest allora certamente in nessun modo può essere in vero forte giudicando il dolore come il male sommo il male più grande o temperante statuens stabilendo il piacere come il bene supremo poi questi participi presenti che sono poi i participi congiunti così vengono chiamati in questo caso andrebbero bene essere sviluppati in un condizionale e certamente in nessun modo può essere forte chi giudica il dolore il male più grande o temperante o temperante chi giudica il piacere il bene più grande l'ho tradotto come una relativa ma è una relativa con valore condizionale va bene ecco a l'ho tradotto a l'ho tradotto a l'ho tradotto a l'ho tradotto